A Rencio di Crodo è franata la montagna, quattro famiglie fuori casa sono ospitate da parenti, l'area presidiata da volontari ai BIC. Vongole con norovirus al banchetto di nozze, condannati a due mesi e venti giorni lo chef stellato e la moglie. A Stamorizio d'Opaglio i carabinieri forestali hanno sanzionato due aziende per gestione illecita di rifiuti. La giudice Cristina Marzagalli, verbanese d'adozione nominata sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Da oggi a domenica a Macugnaga la terza edizione del Winter Mountain Rescue corso per il soccorso alpino. Fafoglia Salerno in cerca della vittoria dopo i 4K, coach Ducarello, bisogna invertire la rotta, dobbiamo vincere. Buona serata dalla redazione di VCO Notizie, ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano la cronaca perché un boato nella notte ha risvegliato i residenti di Crodo, una grossa frana si è abbattuta in località Rencio. Il bilancio è di quattro famiglie sfollate. Valutate le condizioni meteo, rimarranno fuori casa almeno fino a domani. Siamo davvero a pochi metri da quella che è la frana che questa mattina attorno alle 4 ha scosso la frazione di Rencio, tant'è che quattro famiglie e 11 persone sono state evacuate. Ma qual è la situazione? Avete anche effettuato un sopralluogo col geologo? Sì, abbiamo effettuato un sopralluogo nella prima mattinata appena c'è stata la luce dell'alba. Siamo riusciti a fare un sopralluogo. Purtroppo non abbiamo potuto fare un sopralluogo con l'elicottero dei Vigili del Fuoco, in quanto l'elicottero è arrivato fino a Domodossola ma non ha potuto proseguire per le condizioni avverse del tempo. Da una prima visione della situazione abbiamo preferito evacuare le quattro famiglie che risiedono nelle case qua e quindi penso che per questa notte comunque le famiglie dovranno rimanere fuori casa. Poi faremo un'ulteriore valutazione domani per un'eventuale verifica per capire se c'è la possibilità di far rientrare le persone a casa. Ora la situazione verrà monitorata con l'ausilio dell'IAIB? Sì, abbiamo predisposto una guardiania anche durante la notte con una squadra di AIIB che piacerà una torre faro di modo che teneremo monitorata la situazione anche per tutta la notte perché soprattutto nelle ore notturne è bene che la situazione sia monitorata. Perché siamo davvero vicini anche alla strada statale? Sì, siamo vicini alla strada statale, fortunatamente la strada statale è stata risparmiata. Questa è la fase emergenziale, poi ci sarà da lavorare per mettere in sicurezza questo versante? Sicuramente ci sarà un po' da fare degli interventi successivamente, una volta che si è assestata la frana, quindi poi abbiamo già anche interessato la regione Piemonte e quindi vedremo poi assieme al geologo che tipo di interventi fare insomma in futuro. Il sindaco ha chiamato in causa la regione Piemonte, serviranno fondi, parecchi fondi per mettere in sicurezza questo versante? Certo, il sindaco ha subito allertato i nostri tecnici regionali, stanno valutando la situazione e in casi come questi dove c'è vicino il centro abitato è giusto che la regione Piemonte con i fondi a disposizione metta in sicurezza gli abitati. Ringraziamo gli AIB, la protezione civile, i volontari che come sempre rispondono, sono qui a dare una mano, sono qui a monitorare la situazione, siamo in un territorio di montagna fragile, ci sono precipitazioni intense e purtroppo ogni tanto la gravità fa sì che questo succede. In Tribunale a Verbagna è arrivata la sentenza per l'intossicazione degli sposi e di alcuni invitati a un banchetto nuziale al ristorante Stellato. Sono stati condannati a due mesi e venti giorni con la sospensione condizionale della pena e non menzione Marco Sacco e Raffaella Marchetti, difesi dall'avvocato Marco Ferrero, rispettivamente chef e direttrice del ristorante Stellato Piccolo Lago di Mergozzo. I due imputati erano finiti a processo per lesioni personali e commercio di sostanze alimentari nocive. I fatti risalgono a luglio 2021, quando al termine di un banchetto di nozze numerosi invitati, sposi compresi, avevano avvertito i sintomi di un'intossicazione alimentare con nausea, vomito, dissenteria. Alcuni avevano dovuto ricorrere alle cure del DEA. Le indagini erano state svolte dai carabinieri del NAS di Torino e della sezione di polizia giudiziaria di Verbagna. Gli esami effettuati dall'ASRA-VCO avevano stabilito che la causa di quei malori era un'intossicazione da norovirus contenuto nelle vongole servite crude con il risotto. Il PM Fabrizio Argentieri, al termine del processo, aveva chiesto la condanna a otto mesi ciascuno. Marco Ferrero, avvocato difensore di Sacco e Marchetti, osserva come si tratti di una condanna per responsabilità altrui, trattandosi di alimento acquistato in confezione sigillata, la cui genuinità avrebbe dovuto essere garantita, come previsto nella legge alimentare del settore, dal produttore e poi dall'importatore, che inspiegabilmente non sono stati coinvolti nell'inchiesta. E ancora, si tratta pur sempre di una responsabilità colposa, valuteremo la possibilità di espletare l'appello quando saremo messi a conoscenza del dispositivo. In ogni caso, la responsabilità era residuale, tanto che il giudice ha applicato una pena nei minimi termini e giustamente ha limitato e non di poco le richieste di danno delle numerose parti civili che erano sproporzionate e non di poco rispetto a quanto accaduto trattandosi di un virus che al massimo provoca mal di pancia per due o tre giorni senza ulteriori conseguenze. Il contratto per il banchetto è avvenuto tra gli sposi e Sacco e Marchetti. Chi ha trattato per ultimo le vongole è stato il ristorante. La responsabilità di quest'ultimo trattamento non può che essere sua, dichiara l'Avvocato Rabaini. Ringrazio il sostituto procuratore Fabrizio Argentieri, prosegue Rabaini e i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria per l'incomiabile lavoro svolto. Il giudice Beatrice Alesci ha anche disposto provvisionali per oltre 20.000 euro, 8.000 complessivi ai coniugi che organizzarono il banchetto e 250 euro per ciascuna delle 53 parti. A carico dei due imputati, anche le spese legali di oltre 10.000 euro. A San Maurizio d'Opaglio i carabinieri forestali hanno sanzionato due aziende per gestione illecita di rifiuti. I militari della Compagnia Carabinieri di Arona e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Novara e del Gruppo Carabinieri Forestali di Novara nella mattinata del 6 marzo hanno eseguito mirati controlli nella zona industriale del comune di San Maurizio d'Opaglio sul rispetto delle normative relative alla tutela dell'ambiente e alla legislazione sul lavoro. Questo nell'ambito di un controllo straordinario ed integrato del territorio. L'attività ispettiva, che ha interessato aziende operanti nel settore della pulitura dei metalli per l'indotto delle società produttrici di rubinetti, ha consentito di appurare in due distinte aziende presunte violazioni per gestione illecita di rifiuti di cui l'articolo 256 del Decreto Legge del 2006 è di procedere al sequestro di un punto di emissione in atmosfera poiché ritenuto non autorizzato norma di legge. Per quanto attiene alla normativa sul lavoro, sono state contestate presso due aziende presunte violazioni con ammende complessive per un totale di circa 35.600 euro e sanzioni amministrative pari a 13.300 euro. L'intera attività ha portato al controllo di quattro ditte, in due delle quali sono state riscontrate presunte irregolarità. Sono inoltre stati controllati 18 lavoratori e si stanno svolgendo approfondimenti sulla posizione di due di essi per appurare eventuali irregolarità. Il servizio è stato svolto impiegando 28 militari e 12 automezzi delle diverse articolazioni dell'arma, che poi ha informato l'autorità giudiziaria dell'attività svolta. Dopo il servizio delle Iene sul caso sollevato dalla segretaria comunale Mollia in difesa della sindaca Marchionini, si leva la voce di Alleanza Civica. Solidarietà alla sindaca Silvia Marchionini e alla vice Marinella Franzetti. Alleanza Civica, gruppo di maggioranza in consiglio comunale a Verbagna, interviene nella polemica che si è scatenata in città dopo il servizio delle Iene sulla denuncia della segretaria comunale Antonella Mollia. Il gruppo dell'assessore Giorgio Comoli stigmatizza le reazioni politiche e commenti apparsi sui media, ma anche sui social. Unica voce che si è elevata in queste ore in difesa di Marchionini. C'è persino chi simbolicamente chiede al sindaco di fare un passo indietro e chi, pur avendo un ruolo in maggioranza nel consiglio comunale, sembra applaudire la manifestazione di indignazione. Insomma, emerge anche da noi un giustizialismo dei noi altri e la voglia di spargere fango, si legge nella nota. Siamo fiduciosi nella positiva conclusione della vicenda per l'amministrazione comunale e non condividiamo il metodo di approccio alla campagna elettorale di certo non utile al bene degli interessi dei cittadini. Ma sembra che il clamore non sia destinato a spegnersi in fretta. Per lunedì il candidato sindaco Gian Domenico Albertella, con i segretari provinciali di Fratelli d'Italia, Lega, Salvini, Piemonte e Ferbani a Futura, hanno convocato una conferenza stampa sull'argomento. In occasione dell'8 marzo, l'amministrazione comunale di Gravellona Toce, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Galileo Galilei, ha voluto procedere all'intitolazione della piazza del Parco Giochi a fianco del Palazzo di Città Arita Levi Montalcini. Stradinario esempio di donna, neurologa, premio Nobel per la medicina nel 1986 e poi senatrice a vita. Adilaria Alpi, giornalista della RAI, assassinata a Mogadiscio nel 1994, è stato intitolato il vicolo tra le scuole e la via Risaie, mentre al professor Mauro Moroni, immunologo gravellonese di fama internazionale, è stato intitolato il parco lungo lo Strona, nei pressi del ponte Cavagnino, tra le cupole e le isole. Presenti il sindaco Gianni Morandi, gli assessori di Titta, Franchi e Birocco, il vicepresidente della provincia Rino Porini, oltre a insegnanti e alunni delle scuole, che hanno letto alcuni brani ed esposto delle opere d'arte in biblioteca. Domenica alle 15.30, spazio alla cerimonia di premiazione del concorso di narrativa breve Città di Gravellona, emozioni di donna, racconti e vissuti, giunto alla decima edizione. Un nuovo importante incarico per la giudice Cristina Marzagalli, verbanese d'adozione attualmente alla Corte di Giustizia Europea, per lei la nomina a sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. E oggi, 8 marzo, abbiamo colto l'occasione per parlare con lei anche di donne e magistratura. Cristina Marzagalli, un importante nuovo incarico. La nomina alla Procura generale presso la Corte di Cassazione, dalla Corte di Giustizia Europea, di che cosa si occuperà? Allora, farò parte del gruppo di magistrati della Procura generale presso la Corte di Cassazione, che sono dei magistrati che non decidono le cause, ma aiutano i giudici della Cassazione a prendere le decisioni di ultima istanza, cioè forniscono dei pareri nell'interesse della legge, quindi non propendono né per una parte né per l'altra, ma propongono delle soluzioni decisorie ai giudici della Cassazione, che poi sono liberi ovviamente di seguirle oppure no. Attualmente lei lavora in Lussemburgo? Sì, sono alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è un fulcro, diciamo, per la giustizia dei 27 paesi dell'Unione, anche se spesso viene un po' trascurata o è poco conosciuta dal grande pubblico, ma sono lì, seguo le cause italiane e redigo i comunicati stampa a beneficio dei giornalisti italiani. Oggi l'8 marzo, una giornata importante per riflettere sul ruolo della donna, donna che è potuta entrare in magistratura da non molti anni. Ah sì, è soltanto dal 1963 che le donne hanno accesso alla magistratura e anche agli altri incarichi pubblici. C'era proprio un espresso di vieto di legge per le donne di, diciamo, ricoprire questi ruoli che richiedevano delle attività decisorie o comunque di responsabilità, ma perché erano considerate inadatte e incapaci di farlo. Poi finalmente la Costituzione ha tolto la differenza tra uomo e donna nell'accesso a questi incarichi, nel 1963 una legge, e finalmente poi i concorsi che hanno dato luogo all'ingresso di tante donne in magistratura. Adesso, per esempio, la Presidente della Corte di Cassazione è una donna ed è la prima donna a ricoprire questo incarico importante. A Domodossola la Vigilia della Festa della Donna è stata celebrata con uno spettacolo promosso da SPI, CGL, Hauser, Anpi, a ricordo della poetessa Alda Merini. È stata l'ex cappella Mellerio di Piazza Rovereto ad ospitare l'evento, uno spettacolo liberamente tratto dal libro Alda Merini, mia madre, di Emanuela Carniti, regista dello spettacolo Patrizia Martini. Attraverso la danza e la musica è stato evidenziato l'estro creativo della poetessa che ha saputo rimodulare il suo dolore in arte, in uno spettacolo tutto al femminile che ha emozionato il pubblico presente nella sala polivalente di Piazza Rovereto. Un momento culturale ideato dalle donne per le donne che ha avuto anche finalità benefiche. I fondi raccolti con l'ingresso gratuito andranno a incrementare il Fondo Tutela Donne e Minori aperto presso la Fondazione Comunitaria del Verbano Cuseossola. E proprio in occasione dell'8 marzo a Villa d'Ossola l'amministrazione comunale ha organizzato una settimana di eventi per celebrare la donna in tutte le sue accezioni. Mercoledì, donne che hanno raggiunto il successo in ambito lavorativo si sono raccontate alla fabbrica. L'obiettivo di questa rassegna innanzitutto era valorizzare al 100% le donne. Abbiamo voluto questa rassegna totalmente al femminile. Infatti il nostro primo punto è stato proprio quello di coinvolgere solo donne in questa prima rassegna proprio per dare un segnale forte alle donne che noi ci siamo per loro e con loro. Le quattro eccellenze di questa sera sono la dottoressa Manuela Ronchi, esperta di marketing e comunicazione, Maura Cerutti, dirigente della Cerutti Inox, Maddalena Calderoni, direttore artistico di Tones on the Stones, e Chiara Serpieri, direttore generale ASL, VCO. E quindi ci parleranno di imprenditoria femminile e delle loro storie di successo soprattutto per dare un forte segnale alle giovani generazioni di quello che si può fare con impegno e dedizione. Una delle ospiti della rassegna Idee di Marzo, promossa a Villa Dossola, è l'ospite di Maurizio De Paoli questa settimana nel salotto del Sasso nello Stagno, appuntamento il venerdì alle 20.30 con Manuela Ronchi, fondatrice di Action Agency. Nella puntata di questo 8 marzo, giornata internazionale della donna, sono lieto di avere come ospite al Sasso nello Stagno una donna, è una donna di successo, che per due anni è stata indicata dalla rivista Foros tra le 100 donne, diciamo, più eccellenti, tra virgolette, del nostro paese per quello che hanno fatto nei vari settori della scienza, dello sport, dell'imprenditorialità, della comunicazione. Ecco, la donna che sarà ospite del Sasso nello Stagno, tra l'altro è una verbanese, è Manuela Ronchi, quindi avremo l'occasione di sentire una nostra concittadina che ha fatto successo, ma il successo non le è capitato addosso, è andata a cercarselo, a costruirselo, con curiosità, con pazienza, con creatività, ha fondato un piccolo impero della comunicazione, nel quale lavorano tra l'altro una sessantina tra dipendenti e collaboratori. Cercheremo di capire con lei qual è l'importanza della comunicazione nel mondo di oggi, l'importanza, ad esempio, per lanciare un prodotto, ma anche l'importanza comunicativa in genere, e come si vanno sempre più a qualificare le comunicazioni nei social, ad esempio. Sicuramente, vista la capacità, la professionalità, la competenza e anche la simpatia dell'ospite, sarà una bella puntata del Sasso nello Stagno. A Macugnaga sono ben 30, provengono da tutta Italia gli iscritti alla terza edizione del Winter Mountain Rescue Course, corso di formazione per il soccorso alpino della durata di quattro giorni, organizzato dalla Scuola Sanitaria e Tecnica Piemontese con il supporto delle scuole nazionali. Alla Congress House di Macugnaga, il Winter Mountain Rescue Course, una quattro giorni di eventi, di corsi, appunto, per il soccorso alpino in montagna. In cosa consiste questo evento? Questo è un evento molto importante per noi, perché comunque il soccorso alpino effettua un soccorso tecnico sanitario in montagna, in ambienti imperio, e questo corso è nato proprio per permettere ai tecnici sanitari di esercitarsi insieme per tre giornate, lavorando su dei simulati, dove appunto il soccorso viene effettuato in ambiente e sia la componente tecnica che la sanitaria hanno un'eguale importanza e vanno a lavorare insieme per ottenere poi quello che è il risultato finale, che è il meglio per il paziente che andiamo a soccorrere. Cosa prevede il programma per le giornate di sabato e domenica? La giornata di sabato sarà dedicata a delle simulazioni di soccorso in valanga con un elicottero che sbarcherà dei tecnici e dei sanitari sull'evento valanghivo e questi dovranno risolvere una ricerca con ARVA, con unità cinofila da valanga e una stabilizzazione del paziente per poi un trasporto in un centro ospedaliero. Mentre la giornata di domenica sarà dedicata a un aspetto più legato alla verticale dove si simuleranno delle persone cadute in parete o pendie ripidi su terreno invernale dove dovranno essere imbarellati sempre da operatori tecnici e operatori sanitari e dovranno essere evacuati tramite toboga per poi anche loro essere ospedalizzati tramite un elisoccorso o un'ambulanza. Gli argomenti sanitari saranno i seguenti vedremo di valutare che sono le condizioni dell'infortunato del paziente che ha subito un trauma e quindi la valutazione X, B, C, D, E del paziente in seguito sul simulato dei travolti in valanga vedremo quali sono le peculiarità del travolto in valanga i segni vitali, la valutazione e il trattamento che deve essere fatto sul posto. La cosa importante è proprio quella di combinare la parte teorica tramite lezioni che si svolgono nel pomeriggio con la parte pratica che viene svolta in ambiente dove tutto quello che viene diciamo spiegato teoricamente viene praticamente eseguito. Abbiamo dei medici specializzati in emergenza in montagna abbiamo dei infermieri professionali specializzati anch'essi in emergenza in montagna e il loro alto livello di preparazione è veramente a livello europeo è uno dei migliori. Anche quest'anno la fondazione Robert Holman conferma la sua partecipazione agli agrumi di Canero Riviera le operatrici della fondazione e quella della rete museale proporranno dalle 14.30 alle 17.30 un laboratorio gratuito multisensoriale agrumi in tutti i sensi nel giardino di Villa Laura sede del museo etnografico o al suo interno in caso di pioggia. La seconda proposta inclusiva sono le visite guidate in lingua dei segni del Parco degli Agrumi nelle domeniche 10 e 17 marzo dalle 14.30 alle 17.30 Siamo ora alla pagina sportiva un solo risultato a disposizione per la Paffonia a Salerno la vittoria necessaria dopo 4 KO di fila. Ugo alla vigilia di una partita dove c'è la classifica dove c'è il calendario fondamentale in cui conta davvero solo vincere. Hai detto tutto tu e sappiamo benissimo che è una partita per noi molto importante bisogna prendere questi due punti giocando bene giocando male vincendo anche di mezzo punto però l'importante è vincere sappiamo che è una tappa importante per noi i ragazzi sono consapevoli anche di questo e quindi c'è da andare lì è consapevole che bisogna entrare in campo con una sola idea quella di vincere la partita. ti preoccupa il fatto che quando fa fuori due vinci delle partite magari le ha approcciate non benissimo mi viene in mente Fiorenzole e altri match invece quando ha affrontato squadre di pari livello o più forti lo ha fatto in maniera migliore. Mi preoccupa il fatto come ho detto sempre nel passato che la quotidianità è la settimana ne abbiamo avuto tante e troppe i ragazzi comunque ci hanno sempre provato davanti alle varie difficoltà che succedevano durante la settimana secondo me la classifica noi non meritiamo questa classifica per diversi motivi cosa che tu sai benissimo lo sforzo che stanno facendo questi ragazzi però diciamo che noi il campionato ci è girato all'incontrare Abrianza Abrianza quella partita la dovevi chiudere la dovevi vincere prendere quei due punti nella parte sinistra della classifica due punti dalla quarta non c'è girata le altre partite sono andate come sono andate giocandocele con tutti con Tecatini con Livorno contro le squadre forti approcciando per bene contro Fiorenzuola e poi sgredolandoci pian piano durante quella partita la palla canestro non si inventa nulla come ti alleni i giochi quindi in questo diventa diventa fondamentale però stiamo facendo una serie di allenamenti belli tosti opportunamente si stanno allenando tutti è chiaro che c'è qualcuno che ora sta accusando anche il proprio tipo di stanchezza perché non più abituato a questi tipi di lavori però quello non è un problema si pedala bisogna rimboccarci le maniche e prendere questi due punti a salire uno sguardo alla nostra programmazione come ogni venerdì alle 21 e 30 torna l'appuntamento settimanale con Bike Trail Café il talk show che vice azzurra tv dedica al mondo del cicloturismo nell'Alto Piemonte nella puntata di questa settimana l'ospite di Luigi Ciccarone sarà il nutrizionista Simone Iannone dunque si parlerà di nutrizione sportiva con particolare focus sull'importanza di una corretta alimentazione nel cicloturismo la trasmissione è replica sabato alle 9 e alle 13 e questa era l'ultima notizia il nostro telegiornale termina qui grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata con le nostre trasmissioni grazie a tutti